ciao amici e amiche e benvenuti a questo sabato pomeriggio di robots ok allora ho usato rift raga l'inforzamento in progetto la radiazione in questo area è molto alta lo potrebbe aiutare la maggiori organismi di terra la mia radiazione può aiutare questi livelli di esposione senza nessun amici se la radiazione in questo area è molto alta possiamo aspettare la radiazione di gamma di un'articola. Questi possono fare una struttura. La strutturazione atmosfera è anche molto pesante in questo area. La radiazione del sole può fare un'articola. Non c'è un'articola. Dobbiamo migliorare la struttura prima di fare un'articola in questo area. Ashley, dovremmo fare più informazioni su questo area. Potremmo uscire le letture dei miei sensori per migliorare la radiazione e la struttura di UV per la mia armata e le nostre strutture. Ok, proviamo a scuotare le quali possibili i miei sensori con la data. venga. allora questa roba verde non è più qualità di cosa? perché non... insomma carbonio, comunque. quindi niente di... quel tipo di ragnotti ragni o formiche? no? sono ascoltioni sono ascolti in celli questa roba qua secondo me non so perchè si fa tipo questa roba qua di radiazioni eh? vedi? io mi sto vedendo tutto 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 ma a questo punto e poi qua non 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 Grazie a tutti. 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 Wow, che cos'è che mi ha dato? Azenite. Bello luogo nuovo, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Purtroppo sono al limite. Grazie a tutti. E qua è radioattivo. dobbiamo darci. Okay. è un passaggio. speciale. ok. Ok. guardare. in giro. ok. 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 carbonio. ok. 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 chi sono questi qua? sono belli crosti. c'hanno sangue blu. questo martello è top. ora. ok. affermativi, Ashley. dovremmo avere alcuni risultati avvenciare all'inizio che evidentemente avvenciare. orbitale il pratico. ottiene un pochino che sembrava come un troppo用icare. per il stranabile di Strigaro. possiamo andare lì per lì app startare. attraverare. che è quello? Grazie Grazie Quindi che dobbiamo andare via Wow Ah devo ritornare al mio QG Ok Nessun problema Però voglio prendere questo Ok Preparare for an ion storm This ion storm is really intense It disabled a lot of equipment We have to wait it off Torniamo Alla nostra base Perché non mi farò per rift Non mi ha aperto rift Non si C'è il mio open rift Ma io sono qua Ma forza perché adesso non posso fare nulla, c'è una tempesta C'è il numero di particolari trascamente diminuito Il funzionamento è tornato alla normalità La tecnologia è stata sviluppata Noi stagioni sono disponibili per costruzione Ok Ok Copriamo rift adesso Si Headquartered Yes Dai torniamo al nostro quartier generale E' esaltantissimo raga sto gioco Spero che piaccia anche a voi Spero che piaccia anche a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Spero che ci sono pronti Puoi anche controllare la nostra lista di obiettivi sull'interno Ok, Mr. Riggs, proviamo a vedere se la base è ancora intacta Quindi possiamo tornare a sviluppare altre biome Seismica anomalia detenata Grazie a tutti 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 Grazie. Grazie. Allora... Che giù è? Una nuova specie, ragazzi. Oh, la mia mano! Una nuova specie, ragazzi. Forza noca! Oh, la la! Tutti a destra arrivano! Oh, la la! Tutti a destra arrivano! Oh, la la! Guarda che roba! Oh, la la! Guarda che roba! Oh, la la! Guarda che roba! Oh, la la! Oh, la la! Oh, la la! Oh, la la! Una delle nostre bambi è stato destruita! la base è sotto attacco è getting cloudy sembra che è freddo un building ha stato distruttato questo frame è harmloso ma diminuisce la efficienza di solare la efficienza Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Diciamo che per adesso siamo abbastanza a posto. scelta. Vedete? Vedete. Vedete. Vedete se possiamo... Palladio. Questo perché? Questo perché è? complete campaign objects ok guarda condizione tanzanite non per forza vado in camuffale quello per forza quindi limit cap in primo zero biomaso energy storage ci sta, ah si questo, questo, ci potrebbe anche stare, storage per forza, liquid compressor non l'ho ancora sinceramente grazie 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 wow Sta stalo patata stalo Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 . Sì. . Sì. 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 . Sì. . . Sì. . Sì. 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 No Grazie a tutti. 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 One of our buildings was being destroyed. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie.